Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti qui. Per noi è importante in questo momento fare un punto della situazione, ricostruire quello che è il percorso che ci ha portato ad essere oggi qui. Grazie. Grazie a tutti. 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 più della metà negli ultimi anni dei consigli regionali, sia sotto indagine per reati di corruzione e di truffa. Addirittura si contano 1100 in totale di indagati di ex consiglieri regionali. Di conseguenza cosa succede? Cosa viene fatto nella riforma Renzi? Vengono trasformati i consigli regionali in senatori. Nella strada da casa, dal consiglio regionale a Roma, acquisiscono pure l'immunità. Cioè c'è un'istituzionalizzazione della corruzione. Corruzione, abbiamo visto cosa significa? Significa mala gestione dei soldi pubblici, di tutto quello che è pubblico, del servizio pubblico, quindi aumento delle tasse. La corruzione è il principale problema del Paese. Come l'affronta Renzi? L'affronta creando una camera costituita di consiglieri regionali che con l'immunità non vanno in galera. Questo è il primo motivo per cui noi contestiamo la riforma. Il secondo motivo è evidentemente il combinato tra la pessima riforma del Senato di Renzi e l'Italicum. Insieme cosa fanno? Insieme creano il governismo assoluto. Il governismo assoluto è l'esatto opposto della richiesta di referendum propositivi senza quorum, dove i cittadini si affiancano al governante, cioè i governati si affiancano al governante per produrre le leggi. I cittadini che limitano il potere del governante. Se il governante è cattivo, il cittadino interviene a limitarne il potere. Lui fa l'esatto opposto. Con l'Italicum vince uno solo che prende un solo voto in più dell'avversario, vince il 55% dei seggi e si costruisce il governo. È molto peggio del presidenzialismo all'americana, è molto peggio del semipresidenzialismo alla francese, è tecnicamente una dittatura del capo. Un capo del governo che si nomina i ministri, un capo del governo che si nomina i parlamentari. Non esiste più una parte che indirizza il governo, cioè il Parlamento, ma il Parlamento diventa il comitato esecutivo del governo. Queste sono le due motivazioni perché noi contestiamo fortemente la riforma. Le nostre proposte ci avrebbero portato, faccio una domanda che ovviamente magari potrebbe essere fatta, ci avrebbero portato a appoggiare le nostre proposte di modifica, che ha detto Fabiana, ci avrebbero portato ad appoggiare la riforma? Assolutamente no. Erano solo ossigeno democratico dentro una proposta dove c'era totale apnea di democrazia. Ti ringrazio. Passo la parola a Riccardo Fraccaro. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo perso la voce cercando di difendere la democrazia. Oggi abbiamo smascherato il partito antidemocratico. Ha detto di no a tutto. Ha detto di no al dimezzamento dei parlamentari, ha detto di no all'abolizione di vitalizia dei parlamentari condannati per mafia. Ha detto di no a tutto. Ha detto di no addirittura oggi al referendum propositivo che loro hanno nel loro programma elettorale. Anzi Renzi oggi ha detto che il referendum propositivo snatura la Costituzione. Beh, io voglio dire a Renzi in questo momento che per lui non snatura la Costituzione un senato di criminali, di ladri, non snatura la Costituzione una camera di nominati, ma al referendum propositivo. Questo la dice lunga della persona che ci sta governando in questo momento. Evidentemente ci abbiamo visto lungo. Abbiamo toccato un erbo scoperto. Abbiamo dimostrato che l'unico obiettivo di queste contro riforme incostituzionali è quello di salvare la casta. È quello di permettere a una nuova classe politica filorenziana di continuare a rubare ancora più oggevolmente il popolo italiano. Buonasera a tutti. Oggi in Italia abbiamo un grande problema e questo problema si chiama Partito Democratico. Perché il Partito Democratico da ieri sera si è dimostrato essere il partito della paura. Il partito che ha paura di tutti gli italiani. È proprio un partito della paura perché io mi ricordo che già molti anni fa questa falsa sinistra, questo falso Partito Democratico ha messo nei cassetti referendum come quello sull'acqua pubblica, come quello sul finanziamento pubblico ai partiti. Avevano già allora paura dei cittadini e adesso questa paura l'hanno portata in Parlamento e vogliono con questa paura riformare la Costituzione. È un partito che provocherà dolore a tutti i cittadini italiani con una mancata democrazia. Tradiscono il senso della Costituzione e tradiscono il senso delle riforme istituzionali. È il partito del non dialogo. È il partito del no. Stiamo cercando di dialogare in tutti i modi, nelle commissioni, nel Parlamento, facendo ogni proposta di buonsenso sui referendum che sono i principi e i principi della Costituzione. I referendum consultivi, abrogativi, propositivi. E loro di questi referendum hanno sempre avuto paura. Sempre. E non li hanno mai considerati. si riempiono la bocca di parole come acqua pubblica, costruiamo insieme con tutti i comitati noi del movimento referendum, si vince con oltre il 90% e puntualmente disattendono la volontà popolare. È quello che fanno oggi. Oggi questa Camera dei Deputati è una Camera desolata. C'è il deserto e c'è solo il Partito Democratico, falsamente democratico, che dovrà avere lui tutte le responsabilità per cambiare da solo le riforme di questo Paese e la Costituzione. Io non immaginavo mai che le riforme costituzionali di un Paese potessero essere vissute in questo modo, con questa violenza, con questa scarsità di dialogo, scarsezza di dialogo e con questa desolazione. Io di un partito così non so neanche cosa altro aggiungere. Ieri è venuto questo Presidente del Consiglio, questo uomo che arriva lì e fa delle smorfie, manda i messaggini ai parlamentari suoi, si guardano e viene lì a vedere che hanno operato e che fanno il loro sporco lavoro per portare un altro poco di ossigeno in conferenza stampa e dire l'ennesima cosa vuota al Paese. Questo è Renzi. Chiacchiere e conferenze stampa. Chiacchiere e conferenze stampa. Noi non abbiamo mai fatto una conferenza stampa senza prima avere un tema già proposto. E allora io penso che ai cittadini già non interessano queste riforme, ma poi queste riforme sono scellerate. E il primo punto che chiediamo di lavorare sulle maggioranze parlamentari sono i temi. E l'abbiamo sempre netto. Noi siamo il partito del movimento del dialogo sui temi. E il primo tema è la nostra prima manovra economica che è il reddito di cittadinanza. 780 euro a 9 milioni di cittadini, 17 miliardi di euro di coperture finanziarie certificate da Commissione Bilancio Camera, Senato e dalla Ragioneria Generale dello Stato. E' di questo che dobbiamo parlare in questo Paese. Di aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento. Non parlare di riforme costituzionali da soli, chiusi, in questa autoreferenzialità che questa Camera è. In questo modo diventa una bolla che non serve a nessuno. Sospensione, metafisica. Renzi è il re della metafisica, ovvero il re del nulla, che porta a casa falsi risultati. Intanto i cittadini soffrono. Noi la viviamo ogni giorno questa sofferenza con i cittadini perché siamo quei cittadini, siamo venuti in questo Parlamento per liberarci dall'autoreferenzialità di un sistema partitivo che non rappresenta più niente e più nessuno se non loro stessi. E' un appello che chiedo e faccio a tutti i cittadini italiani. Noi siamo qui e siamo qui con voi. Non molleremo di un centimetro e andremo avanti fino in fondo per riportare la semplicità, il buonsenso e le cose giuste come buoni padri di famiglia nel nostro Paese. Quindi coraggio che la strada è lunga ma ce la faremo. Le altre forze di opposizione hanno fatto una conferenza stampa tutti insieme. Voi perché avete scelto di farla da soli? Semplicemente perché a quel tavolo sedevano le stesse persone che hanno scritto la riforma. Ci sembrava abbastanza incoerente. Comunque dal PD in questi giorni, dall'Aula, insomma, anche la seduta a fiume viene attribuita. La responsabilità è vostra e l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle che ha portato a questa situazione. E poi se posso un'altra domanda. Se anche voi, come le altre opposizioni, andrete dal Presidente, verrete ricevuti, andrete dal Presidente della Repubblica Mattarella, che cosa gli chiedete? Grazie. La responsabilità di questo atteggiamento è tutta in capo al PD. Sono loro che hanno richiesto la seduta a fiume, sono loro che hanno contingentato i tempi, sono loro che hanno detto di no sostanzialmente a tutto. E ricordo che la seduta a fiume è stata votata con quel premio di maggioranza che gli ha garantito di fatto un dibattito inesistente per l'opposizione. Quindi è assolutamente una critica strumentale dire che la colpa è dell'opposizione. Anzi, l'ho sottolineato molte volte sia in conferenza di Capigruppo che nei dialoghi con la Boldrini. Quando si tira troppo la corda poi il rischio è che si spezzi. Questa è stata la reazione. Loro hanno voluto tirare troppo per portare a casa il risultato, che è un risultato che peraltro ai cittadini non interessa nulla, ma Renzi serviva a dire e viva ce l'ho fatta. Questo è il punto. E credo che il Presidente Mattarella, essendo un amante del diritto costituzionale, quantomeno molto di più di quello che sono io, sicuramente starà seguendo la situazione e avrà le capacità per valutare il metodo con cui è stata discussa questa riforma. ora usciremmo, siamo usciti dall'aula ma non usciamo dal Paese, siamo qui e continuiamo a lottare. Noi stiamo, adesso lotteremo sempre di più, ancora di più con i cittadini per ottenere quello che serve ai cittadini. Lottare e dialogare con queste forze politiche credo sia evidente, inutile e quindi forse l'unica cosa saggia da fare oggi è spiegare quello che sta succedendo qui dentro direttamente alla cittadinanza per informarla, che è la cosa più importante in questo momento. Per quanto riguarda le minoranze del PD, le minoranze del PD lottano all'interno del PD da sempre, senza mai uscirne, senza mai alzare la testa veramente. Dichiarano una cosa e ne votano un'altra, quindi non sono credibili. Io le ritengo una presa in giro semplicemente perché sono ore che attendo che il Presidente Speranza mi dia una risposta che sia degna di questo nome. Continuo a dire, aspettiamo un attimo, vediamo. Addirittura mi è stato suggerito di provare a fare un po' di caos così eventualmente se si fosse sospesa l'Aula avremmo potuto discutere, quando una maggioranza di quel tipo con le forzature regolamentari che hanno fatto sono in grado di fare ciò che vogliono. Ne abbiamo discusso per tantissimo tempo, la trasparenza è stata tantissima, tant'è che lo sapete persino voi. La risposta effettiva non è arrivata. Io stamattina, ma anzi oggi, probabilmente l'ora della conferenza di Capigruppo, ho ancora provato a riproporre al Presidente Speranza in quella sede, ci date una risposta? Sì o no? E la risposta è stata il Ministro Boschi, ni e da parte dell'altro, quindi sostanzialmente non c'è stata, è stato sostanzialmente un no con un vedremo dopo. Vedremo dopo non è una risposta, evidentemente è no. E l'appello fatto mi sembra una presa in giro perché sono ore, ore, e ore e ore e ore e giorni che aspettiamo che ci dicano qualcosa. Il Presidente Speranza mi ha detto se voi fate causa in aula sicuramente la seduta si sospende, però non è un modo per condurre l'aula, soprattutto da parte sua, vista l'ampia maggioranza che ha. Direi che avrebbe potuto proporre una pausa tecnica, visto che era una seduta a fiume, che poi seduta a fiume effettivamente non è perché di pause tecniche ne sono state fatte notevoli dalla maggioranza in base ai propri comodi. Mi permetto di intervenire sulla sua domanda, se poi il Presidente del PD Speranza decide di votare le nostre proposte, le possono prendere perché sono su quelli fascicoli in aula e se le possono votare da soli? Come abbiamo già detto prima, il Presidente Mattarella ha tutti gli strumenti per osservare, vedere e comprendere la situazione. E soprattutto riguardo una questione di metodologia, perché quella che viene tradita come modo e percorso è proprio la metodologia che tradisce il senso stesso della Costituzione e dell'architettura dello Stato. Siccome Mattarella è il garante di tutto questo ed è il primo garante della Costituzione, è chiaro che aspettiamo un segnale sul metodo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.